Musica Signore e signori bentrovati, buona domenica in compagnia del TG6 la settimana. Le associazioni di categorie continuano a manifestare forte preoccupazione per il caso Bollette in vista di un autunno caldo, lunedì si è tenuto un incontro in regione. Primo tavolo istituzionale questa mattina in regione a Pescara, chiamato a fronteggiare l'emergenza provocata dal Caro Energia, ma anche dedicato allo studio delle misure più urgenti in materia di transizione energetica e aperto alla partecipazione delle forze imprenditoriali e sindacali abruzzesi, si è parlato in generale della questione Caro Bollette, presenti i rappresentanti delle varie associazioni di categoria e gli assessori regionali Campitelli e Damario. Ci troviamo tutti nella stessa barca, ma nemmeno possiamo illudere che il costo energetico possa diprendere da delle scelte regionali. Qualsiasi sgravio che la regione potrebbe essere e potrebbe mettere in campo sarebbe sicuramente limitato dal punto di vista del tempo, ma anche dal punto di vista della quantità, quindi potrebbe essere rappresentata soltanto una goccia all'interno di un oceano. È chiaro che parliamo di un tema che ha una valenza nazionale, se non addirittura internazionale. Noi ci faremo portavoce di quelli che sono gli interessi e affinché possiamo tutelare quelle che sono le realtà, il tessuto produttivo abruzzese e i cittadini abruzzese. È chiaro che dobbiamo ragionare nel lungo periodo, lì con noi come regione Abruzzo siamo assolutamente presenti per una programmazione, per far sì che gli abruzzesi possano diventare autosufficienti dal punto di vista energetico. Però c'è un'emergenza attuale, cioè quella di domani mattina di pagare una bolletta che è triplicata, dove soltanto la regione Abruzzo da sola non può farcela. Noi chiediamo aiuto al governo, al nuovo governo, al governo attuale e mi auguro a breve anche il nuovo governo nazionale e anche a livello internazionale affinché in effetti si possa mettere rimedio a questa tempesta perfetta tra pandemia e guerra in Ucraina che comunque ha portato i nostri cittadini, non solo abruzzesi ma nella nostra nazione veramente con le spalle al muro. Il presidente di Confessercenti Pescara Marina Dolci ha illustrato alcune delle richieste fatte alla regione dalle associazioni. Sul tavolo abbiamo messo tante proposte di aiuti che vogliamo per le nostre imprese e soprattutto anche per i nostri lavoratori e quindi anche le famiglie. La regione ha accolto, studierà queste nostre richieste, ci ha dato dei tempi un po' lunghi quindi aspettiamo un secondo tavolo che speriamo ci sia a breve. Noi abbiamo chiesto tante cose come ad esempio anche per un periodo abolire il bollo auto, l'abbassamento dell'IRAP, invece l'incremento del credito d'imposta per le aziende che si può anche girare per le famiglie se si possono detrarre dalle tasse le bollette e quello che noi andiamo a pagare. Non usciamo col sorriso, io avevo chiesto all'assessore mi fa uscire col sorriso, non ci siamo ancora riusciti. Mi auguro il prossimo tavolo di poter ottenere qualcosa. Il Tribunale del Lavoro di Teramo ha sancito la legittimità dell'operato dell'amministrazione comunale sulle progressioni del personale. In particolare l'assessore al ramo Andrea Core era stato accusato di condotta antisindacale per aver stabilito una quota di dipendenti da beneficiare e non l'intero personale. La sentenza invece dà pienamente ragione al Comune di Teramo. All'indomani della sentenza del Tribunale del Lavoro di Teramo, che dà ragione all'amministrazione comunale nell'aver rispettato la normativa sulle progressioni verticali e orizzontali del personale, l'assessore al ramo Andrea Core tira un respiro di sollievo. Negli ultimi mesi l'accusa di condotta antisindacale aveva messo in crisi il rapporto tra gli amministratori e i sindacati stessi e in parte con i dipendenti. Oggi il Tribunale fa chiarezza e definisce legittima la quota di progressioni stabilita dal Comune di Teramo, 50 dipendenti, che non era obbligato ad estendere i benefici a tutto il personale. L'amministrazione è sempre stata convinta di aver operato nel pieno della legittimità a tutela dei lavoratori nel rispetto della normativa. Questi sono in qualche modo i filoni che abbiamo seguito nella nostra azione amministrativa. dispiace che sia arrivato a un punto in cui un Tribunale, quindi un organo terzo, abbia dovuto sentenziare su questo argomento, ma del resto noi siamo sempre stati convinti e sereni sull'operato dell'amministrazione. Lo abbiamo fatto, questo come tante altre azioni. Penso alle progressioni verticali, appunto alle progressioni orizzontali 2018, 2019 e 2021, le procedure concorsuali, nel pieno rispetto del personale, nel pieno rispetto dell'ente, dell'interesse pubblico, volendo efficientare la macchina amministrativa per raggiungere quelli che sono gli obiettivi che in questi giorni stiamo portando a compimento. Oggi sì, è un giorno di distensione, di serenità, nel quale l'amministrazione accoglie positivamente quella una sentenza che finalmente restituisce la verità, prima di tutto ai cittadini terramani, ai lavoratori e a quanti avevano seguito una battaglia che purtroppo, più che su una questione tecnica, era stata spostata su una questione politica, da chi invece negli anni non aveva fatto nulla per tutelare e difendere i lavoratori e penso a chi nelle precedenti giunte non si era mai speso per andare a difendere e a tutelare gli interessi dei lavoratori dell'ente. Si parla di 15 anni di immobilismo? 15 anni nei quali non erano state previste procedure concorsuali, nei quali non erano stati previsti degli scatti, delle progressioni per il personale. Noi abbiamo già portato a compimento un concorso per progressioni verticali. finalmente con questa sentenza arriva a compimento anche il percorso per la prima di tre progressioni orizzontali che abbiamo previsto in quattro anni. Evidentemente sono risultati significativi che siamo certi verranno accolti più che positivamente dai lavoratori e quindi di riflesso con il loro operato, dai cittadini che vedranno il risultato di una macchina finalmente efficiente che risponde alle loro esigenze. Una modifica al tracciato ferroviario che va da Ortona a Pescara lo ha chiesto l'ex sindaco di Francavila al Mare Roberto Angelucci dopo che RFI ha presentato il progetto nazionale che prevede l'arretramento di alcune trate. Un'occasione sicuramente da non perdere. Stiamo parlando del piano nazionale presentato da RFI e che prevede nel territorio abruzzese due bypass. Una ad Ortona dai ripari a Lido Riccio, l'altro a Roseto. Costo complessivo 1 miliardo e 800 milioni. Conti alla mano dice Roberto Angelucci, promotore del tavolo di lavoro permanente aperto oggi a Francavila al Mare con 50 milioni di euro in più è possibile realizzare l'intera delocalizzazione del tracciato e per la maggior parte interrato per il solo tratto che riguarda Lido Riccio e che arriva a San Silvestro. Partiamo con questa idea e vogliamo chiedere un incontro sia alle ferrovie che all'ANAS con i soggetti, i sindaci, i presidenti delle province. Noi facciamo dalla base questa proposta visto che tutti ci eravamo interessati. Quindi parte un momento di unione per, così come facciamo a suo tempo con la variante, ci siamo riusciti in gran parte. Anche oggi parte questa iniziativa. Un'occasione, quella dell'arretramento, persa già negli anni 50. All'epoca la politica ritene strategica la scelta di far passare i treni nel cuore della città. Ora però il progetto di velocizzazione per abbattere i tempi di percorrenza sta creando problemi di inquinamento acustico e vibrazioni nei fabbricati. È una lotta difficile, è una lotta dura. La regione se ne deve fare carico. Il 4 gennaio scorso la regione, il presidente Marsilio ha voluto riunire tutti i comuni per sentire, raccogliere tutte le stanze e noi abbiamo chiaramente spiegato che la nostra intenzione è quella dell'arretramento o dell'interramento, bisogna studiare un metodo, della linea e nel frattempo di introdurre opere di mitigazione dei rumori e dell'inquinamento acustico e delle vibrazioni per la linea attualmente esistente. A questo tavolo, oltre al mondo della politica, è seduto anche una rappresentanza dei cittadini. Questi ultimi hanno avviato una raccolta firme con l'intento di strappare alla politica la promessa di un'accelerazione riguardo l'installazione delle barriere antirumore. Il gruppo si è informato sui progetti in corso e sappiamo che Francavilla è stata divisa in lotti e c'è già un primo lotto che dovrebbe partire nel più breve tempo possibile di installazione delle barriere a nord del fiume Alento perché era il tratto di tracciato ferroviario maggiormente popolato. Successivamente l'installazione di tutti i lotti fino a coprire tutta la cittadina. Quindi sì, sicuramente prima le barriere e poi la delocalizzazione che risolverebbe il problema ma ci vorrebbe sicuramente più tempo. Adesso ci spostiamo a Popoli, uno dei centri toccati dal sisma dell'Aquila 2009. L'incontro organizzato dalla Camera di Comercio Chieti-Pescara con l'intendo di portare a conoscenza del pubblico e del privato le misure a disposizione per il rilancio dei territori colpiti dal sisma 2009 e 2016. Accompagnare la ricostruzione fisica dei territori danneggiati dai terremoti con risorse dedicate per offrire nuove opportunità di sviluppo alle comunità locali, alle imprese, alle amministrazioni pubbliche nel segno della transizione ecologica e digitale e della prevenzione dei rischi valorizzando l'ambiente, i beni culturali per dare all'Appennino centrale una nuova prospettiva di popolamento e di crescita economica. Next appennino il programma per il rilancio economico e sociale delle regioni del centro Italia colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 finanziato dal fondo complementare al PNRR per le aree sisma con una dotazione complessiva di 1 miliardo e 780 milioni di euro, 700 dei quali e sono la maggior parte a disposizione delle imprese per sostenere i loro investimenti sul territorio. Il convegno organizzato a Popoli dalla Camera di Comercio Chieti-Pescara è dedicato alla specifica misura B e punta a dare sostegno agli investimenti come avvio e crescita di microimprese e di PMI, sostenere turismo, cultura, sport e inclusione oltre alla valorizzazione dell'ambiente. Per quanto riguarda la provincia di Pescara l'area è rappresentata dai comuni di Britoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Farindola, Montebello, Popoli e Torre dei Passeri. Questi territori di cui possono godere questi contributi sono state già prima martoriate dal sisma, cosa grave, poi è arrivata la pandemia, poi è arrivata la guerra, però l'imprenditore ha l'obbligo di non arrendersi, di andare avanti e di guardare al futuro sempre con ottimismo e speranza. La giornata di oggi vuole avere il ruolo di illustrare a chiunque ne ha interesse eventuali dubbi di applicazione di come attingere a questi bandi perché le occasioni sono tante. La responsabilità degli interventi è affidata ad una cabina di coordinamento composta dal commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma Giovanni Legnini. Sono 11 bandi, ciascuno dedicato a un obiettivo settoriale o dimensionale dell'investimento e poi ci sarà anche a brevissimo il bando per le comunità energetiche in questi territori, insomma un programma molto ricco per far sì che chi vuole investire, chi vuole determinare opportunità di impresa, di lavoro, di crescita in questo territorio, lo possa fare alle migliori condizioni possibili. Le emergenze nelle scuole della provincia di Chieti alla riapertura dell'anno scolastico. Questo il tema della conferenza stampa indetta dalla FILC-CGL sulle problematiche strutturali e di organico in cui versano le scuole. Problematiche non risolte a livello nazionale che si ripercuotono poi in ambito territoriale. A portare a gala le difficoltà in cui versano le scuole della provincia di Chieti, Giuseppe Lafratta, coordinatore FLCCGL Abruzzo Molise. Dopo due anni dallo scoppio della pandemia le linee guida in materia di prevenzione sono ancora molto generiche. Basti pensare che si dice che per prevenire le possibilità future di pandemia e di contagio bisogna aprire le finestre quindi nulla è stato fatto invece a livello strutturale, mancano impianti di areazione e noi riteniamo che sarebbe stato necessario impiegare risorse per adeguare le strutture e gli edifici scolastici non solo per la pandemia ma per tutte le problematiche che possono insistere anche in futuro. L'altra grande criticità riguarda il personale. Non verranno riconfermati gli organici covid, circa 2.000 lavoratori e poi il precariato nella provincia di Atina circa 1.500 tra docenti e personale ATA continueranno a svolgere le loro funzioni ma in forte situazione di disagio. Le proposte le abbiamo presentate a suo tempo, a livello di edilizia avevamo proposto appunto di utilizzare queste risorse che sono arrivate per fare dei lavori strutturali, invece sono state sprecate in banchi a rotelle e amenità varie. Invece sugli organici è necessario un sistema di reclutamento più efficace e efficiente che faccia in modo di dare risposte sia all'utenza sia ai tanti precari che contribuiscono al funzionamento della scuola chietina, abruzzese e italiana in generale. Sit-in di protesta dei lavoratori dell'Asp 1 davanti ai cancelli della casa di riposo dei Benedictis di Teramo. I sindacati CGL, CISL e UIL denunciano il ritardo nei pagamenti degli stipendi ai 350 lavoratori diretti e indiretti che prestano servizio nelle strutture di Teramo, Nereto e Civitela. Intanto il commissario regionale Roberto Canzio ha annunciato nuove gare di affidamento dei servizi per le tre case di riposo teramane. Sit-in di protesta delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Asp 1 in programma davanti ai cancelli della casa di riposo dei Benedictis di Teramo. L'iniziativa è stata promossa dai sindacati CGL e CISL e UIL alla luce della situazione attuale che fa registrare un ritardo nei pagamenti degli stipendi da parte dell'azienda pubblica dei servizi alla persona costituita dalla Regione Abruzzo. L'Asp 1 infatti gestisce le case di riposo di Teramo, Nereto e Civitela. Le organizzazioni sindacali in una nota riferiscono che dopo mesi dall'ultimo incontro in Prefettura si continua a non vedere una soluzione concreta ed un reale interessamento delle parti in causa al problema stipendi. È necessario dunque per i sindacati ribadire con una forte protesta l'urgenza di sanare una situazione diventata insostenibile per i dipendenti costretti a lavorare senza la sicurezza del salario a fine mese. Sono circa 350 i lavoratori, diretti e indiretti, che prestano servizio nelle tre case di riposo Teramane attraverso due aziende, la Polis, che si occupa di tutti i servizi generali tranne la ristorazione, che è gestita invece dalla PAP. Il problema non è così grave come affermano i sindacati, dichiara Roberto Canzio, commissario regionale dell'Asp 1. Questi lavoratori percepiscono lo stipendio ogni mese, l'ultimo due giorni fa. Il nodo riguarda tre stipendi da sanare del 2020 che le ditte non hanno potuto pagare perché a loro volta non sono state pagate. Intanto, conclude il commissario Canzio, su mio impulso è in corso l'espletamento delle gare di affidamento dei servizi delle tre case di riposo della provincia di Teramo. Un passaggio obbligato dopo anni di proroghe. Stanno arrivando anche nella nostra regione i vaccini contro le nuove varianti Covid. L'assessore regionale alla sanità è vigile sulla pandemia anche in vista dell'avvio dell'anno scolastico. Ci siamo? Nelle prossime ore arriveranno anche nella nostra regione i vaccini per le nuove varianti? Sì, è vero. In questi giorni stanno arrivando queste nuove dosi di vaccino. Ne sono più di 100.000 che noi andremo a distribuire sulle quattro alz in base al numero della popolazione. Voglio innanzitutto ribadire che la vaccinazione è su base volontaria. Questo vaccino che copre tutte le varianti può essere somministrato agli over 60 e come quarta dose e ai fragili. Invece può essere usata come terza dose agli over 12, ai sanitari e a tutti coloro che lo vogliono fare. Comunque una bella notizia in vista dell'autunno anche dalle riaperture delle scuole. Senz'altro la vaccinazione ha funzionato e senz'altro è un elemento importante perché porta maggiore sicurezza. Però noi continuiamo a lavorare. Vedo che questa nuova ondata è un'ondata che abbiamo saputo anche gestire attraverso la nostra attenzione, monitorando in continuazione e quindi dando delle risposte giuste. Il 12 settembre apriranno le scuole assessore. Si parte all'insegna dell'ottimismo ma ovviamente con un'attenzione sempre massima al mondo scolastico. Sì è vero il mondo scolastico è un ambiente a cui noi abbiamo posto sempre attenzione. Abbiamo portato avanti tutto ciò che sono le norme di sicurezza. Proprio ieri in una commissione salute a livello ministeriale si è data la possibilità di poter anche dotare ogni classe, ogni aula di attrezzature per delle ventilazioni adeguate affinché ci possa essere un'aria sempre più salubre. L'ospedale di Ortona si dota di un nuovo sistema mammografico donato da Rocher e Fuji. Vediamo la presentazione. Oggi è una bella giornata per l'ospedale di Ortona ma per tutta la sanità abruzzese perché è presentato questo nuovo impianto per la mammografia che è stato donato all'ospedale di Ortona che è un centro di riferimento a livello regionale. Sì, Ortona, centro di senologia e riferimento regionale che si allarga anche per recuperare grazie a una partnership pubblico privato con la donazione di un terzo mammografo sulla prevenzione del tumore alla mamella. Noi abbiamo con il Covid perso tante donne che non sono state schienate per cui purtroppo troviamo tante donne già con una tumore avanzata anche metastatico per cui chiaramente dobbiamo recuperare tre anni in cui siamo scesi dai 15.000 donne che schieniamo ogni anno a 10.000 e anche quest'anno ancora la curva non sta crescendo perché è anche un appello grazie a questa inaugurazione di un terzo mammografo a Ortona, complessivamente ne abbiamo nove in tutta la provincia, alle donne di seguire l'invito allo screening e di farsi vedere perché purtroppo, dobbiamo dire, se non viene diagnosticato in un momento precoce il tumore chiaramente ha una prognosi molto peggiore che quando lo screening viene seguito come previsto. Più che mai prevenzione? Assolutamente sì, noi da un lato stiamo recuperando le liste di attesa, la chirurgia che hanno avuto tanti indaventi rimandati che non erano agenti. Stiamo chiaramente soperando tutti i casi oncologici in tutti i presidi di questa provincia, compreso la senologia di Ortona, ma chiaramente, come abbiamo detto, non siamo pronti ad operare, però va diagnosticato in modo precoce grazie anche allo screening di Mamario. Presentata sabato la lista per i candidati in Abruzzo di Alternativa per l'Italia. I valori della vita e lo stop definitivo al Green Pass alcuni dei punti del programma. Presentata a Martinsicuro la lista e candidati di Alternativa per l'Italia, sigla nata dall'Associazione di Forze Laiche e Cattoliche, riunite dalla leadership di Mario Adinolfi, Popolo della Famiglia, e Simone Di Stefano, Exit. Una proposta alternativa per l'Italia per fronteggiare i problemi legati alle questioni economiche, antropologiche e di politica internazionale, per porre al centro della sozione politica i valori non negoziabili della vita e della famiglia. Il nostro programma è veramente ben definito anche perché servono pochi punti. Le persone ormai parlano, parlano per ore, noi abbiamo cinque punti. Non ve li sto anche ad elencare perché è facile reperire. Noi non vogliamo più il Green Pass. L'imposizione del Green Pass e di tutte le costrizioni che abbiamo vissuto in questi due anni sono vergognose. Questa è la linea di Apli. Apli è una federazione tra Popolo della Famiglia, di cui io faccio parte da sei anni ormai, e i nostri cavalli di battaglia sono alla fine sempre gli stessi. Anche perché la prossima, lo dico a tutti i cristiani, quelli che si professano davvero cristiani che siano conseguenti con la loro professione di fede. La prossima sarà la legislatura dell'utero in affitto, dell'eutanasia e questo noi non lo possiamo permettere. Noi che ci professiamo cristiani sappiamo che domenica 25 settembre, usciti dalle chiese, dalle nostre professioni di fede, dobbiamo andare a votare e abbiamo un solo partito da votare. Alternativa per l'Italia. Numerose le donne presenti in lista, tanti gli under 50 e tutti, a parte Adinolfi, rigorosamente esordienti della politica. Tutti coloro che pensano che adesso sia tempo per un'alternativa non generica, non grillina, non quella roba tipo 5 Stelle, ma un'alternativa valoriale che grida forte, mai più Green Pass, mai più violazioni dei diritti costituzionali fondamentali dei cittadini abruzzesi ed italiani, mai più una cancellazione del ruolo fondamentale dei lavoratori e delle famiglie, magari prendendo operatori sociosanitari, medici e vietando loro, come avviene ancora oggi, di lavorare perché non vaccinati. Beh, davanti a questo tipo di programma io sono convinto che oggi presentandoci a Martinsicuro, presentandoci ufficialmente davanti alla Regione Abruzzo, noi abbiamo le condizioni concrete per rappresentare quella pietra d'inciampo, per essere quello scandalo abruzzese, che è uno scandalo cristiano, che è uno scandalo che sa far rimbalzare i cuori perché evoca verità. Ed è stata presentata in Abruzzo il programma della lista di sinistra Unione Popolare con De Magistris, superare la soglia del 3% per opporsi ai programmi di centrodestra e centrosinistra è uno degli obiettivi principali. L'unico programma realmente di sinistra, si presentano così le liste di Unione Popolare con Luigi De Magistris, che stamani hanno illustrato i punti cardine della propria campagna elettorale. La nostra lista è l'unica che chiede la fine di questa orrenda guerra in Ucraina e quindi siamo contrari all'invio delle armi italiane in Ucraina. Noi chiediamo che l'Italia esca fuori dalla Nato, siamo contrari alle sanzioni verso la Russia che si sono rivelate un pesantissimo boomerang per la nostra economia e chiediamo che tutte le risorse invece dello Stato vengano investite là dove servono e quindi innanzitutto per bloccare gli aumenti vergognosi delle bollette, lo abbiamo denunciato per mesi e diciamo anche dove andare a prendere le risorse perché noi chiediamo che vengano tassate al 90% le rendite delle grandi multinazionali dell'energia elettrica e del gas che hanno lucrato finora. Centrodestra e centrosinistra che ci hanno massacrato a livello sociale con il governo Draghi e ancora oggi ripropongono l'agenda Draghi che è l'agenda dettata da Confindustria e dalle grandi lobby economico-finanziarie. Noi invece abbiamo un'agenda chiara, l'agenda Robin Hood. Chi ha più di un milione di euro deve pagare più tasse e investire i soldi invece di dare soldi chiaramente alle lavoratrici e lavoratori disoccupati e aumentare le pensioni minime. Obiettivo principale è superare la soglia del 3% per garantirsi una rappresentanza in Parlamento che possa fare da opposizione a centrodestra e centrosinistra, particolare attenzione ai giovani in riferimento a tematiche quali scuola, lavoro e ambiente, nelle parole della Giuliese Alessia Mazzagufo, candidata nel listino della Camera alle spalle del capolista Maurizio Acerbo. Parliamo di contratti beceri in cui non si può chiedere a un ragazzo di lavorare 18-20 ore, pagarlo con un contrattino regionale, non dargli uno straccio di contributo, negargli ogni tipo di bonus e diritto alla disoccupazione. Stop la legge Fornero sulle pensioni, non possiamo pretendere che nel nostro paese noi giovani cambiamo sulle spalle di mamma e papà fino ai 70 anni perché appunto non riescono a percepire uno straccio di pensione. Sosteniamo l'ambiente perché è giusto parlare di plastic free, questo lo diremo sempre, ma è giusto anche dire che comunque non possiamo rovinare il suolo adibendolo sempre più a cementificazioni e a costruzioni. Noi siamo per un'energia di tutti, pubblica e non privata, e siamo per un'energia strettamente circolare e rinnovabile. Adesso cambiamo argomento e parliamo di sport. Oggi secondo impegno in campionato per il Pescara al Francioni contro il Latina. Squadra già rodata secondo Colombo, quella allenata da Didonato. Per questo al Delfino occorrerà una gara fata di corsa e umiltà. Conosco la squadra, la definisco o l'ho definita sorpresa semplicemente per il fatto che ci sono delle squadre, avevamo fatto i nomi di chi aveva fatto una buona squadra. È una squadra che l'anno scorso ha fatto il più alto minutaggio del Giro NECI ed è arrivata a ridosso dei play-off facendo una parte centrale molto importante a livello di risultati e di prestazioni. Ha mancato per poco i play-off e quest'anno ha mantenuto la stessa ossatura praticamente, con uno o due inserimenti. Per cui lavora con lo stesso allenatore, lavora sullo stesso impianto, lavora con dei buoni giocatori e credo che possa dare fastidio per la sua natura tecnico-tattica a chiunque. È una squadra di buona gamba, di buona fisicità, quindi oltre agli aspetti tecnici ti può mettere in difficoltà sulle corse, sulle ripartenze e sulle palle inattive. È una squadra che è molto avanti, molto avanti rispetto a tante, a tutte, perché ha un rodaggio che deriva da un lavoro di un anno. Tant'è vero che anche nel precampionato, al di là delle partite magari un po' più agevoli contro squadre di lignaggio inferiore, anche contro una squadra come la Triestina, ha avuto la meglio con un buon risultato, un 3-1, che per quanto valga un amichevole, unito al risultato di domenica a Foggia ti fa stare con le antenne dritte e ben venga, perché quello che ho chiesto alla squadra è quella di essere umile in prima battuta, sicura sicuramente dei propri mezzi, ma con l'umiltà della squadra che si deve salvare, non con la presunzione di una squadra che pensa di aver fatto, ed è così, una buona prestazione domenica, ma che poi deve essere consapevole che ci vuole continuità. Con questa notizia termina l'edizione del TG6 la settimana, grazie di averci seguito, buon proseguimento.